In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo». Ma Gesù disse loro «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. e si meravigliava della loro incredulità». Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando 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 Grazie.